Mi nutro di frutta, o ieri qualche insetto. Ho una dote speciale, i miei grandi occhi mi permettono di vedere a giugno. Per questo il mio nome vuol dire spirito della notte. Il mio verso è un brumito nasale. Ciao, sono Lusi in Givore. Sono un ammitero primato e vivo nel sud-est asiatico. Mi nutro di vegetali, ma anche di piccoli insetti. Vivo in piccoli gruppi e mi muovo tra i rami per bracchiazione, dondolando con le lunghe braccia e compiendo oscillazioni e voli dove emetto dei suoni simili ad un canto che servono per chiamarsi e avvisare un pericolo. Grazie.